I fatti dell'ane! Subito così e ora? E se proprio vicine, 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 va che roba? E se proprio... Sarebbero state vicine, sarebbero state vicine, ma... Sarebbero! Sì, diciamo che... Questa stagione, anche questa stagione ci sta dando... No, soddisfazione... Cioè, sì, qualche soddisfazione, qualche gioia, qualche gioia, ma... Tante pene! Spunti di riflessione! Spunti di riflessione! Sto dando tanti spunti di riflessione! Diciamo che, saltando a piepari il fatto che dovevamo vincere il campionato a mani basse... A piepari o a mani basse? Esatto, tutto un... Dei frasi fatte per andare avanti... Tre pepari può essere la prima... Assolutamente no, perché se no, sarebbero tutte coordinate! A parte che il piccolo fatto lì... Non so, passiamo da partite... Una serie di partite dove non tiriamo in porta neanche una volta... Penso mai visto... Poi non so... Sbagliamo due rigori in due minuti... Sì, inezie! Dopo riprendiamo un po' il bandolo delle matasse... Un'altra frase fatta questa, vaga roba... E dopo, sistematicamente, nelle ultime partite... Dominiamo le partite... Giocando bene... O comunque... Indirizzando la partita bene... E prendiamo gol al 96-97... 96-97... Non si chiama più zona Cesarini... Si chiama zona... Della squadra che si usa contro la Vicenza... Sì... Sabato... Dopo un... Bel botta risposta iniziale... Perché anche loro... Erano partiti rispondendo... Diciamo colpo su colpo... Però poi... Abbiamo preso in mano la partita... Abbiamo creato anche diverse occasioni... Belle, nitide... Ehm... Diciamo che il pallino era nelle mani nostre... Sbagliato qualche... Qualche occasione... Sì... Come dicevo... Rimangono... Rimangono sempre... Senza spunta... Tre caselle stavolta... Tre caselle... Tre ore... Tre ore... La casella... Chiudere le partite... Quando è il momento... Quindi... La casella raddoppio... Qui a 70 vodo... Quando è il momento... La casella... Chiudersi e difendersi senza prendere gol negli ultimi minuti... E la casella... Colpo di testa... De succa... Così... Quando arriva un traversone... Dalla destra... Perché... Già il secondo... Quel passante... Da destra... Verso sinistra... Che prendiamo... Allo scadere... Secondo voi... Così... No niente... Bisogna fare un po'... Un po' meglio lì... Tutte situazioni... Che... Bisogna migliorare... E sistemare... Ehm... 5 partite abbiamo... Per farlo... Neanche tante... 5 partite... Ehm... Perché poi... Queste situazioni qua... Peseranno molto... Nel... Campionatino di primavera eh... Mamma... Fiamo... Un 180... 180... Oppa... Cioè... Il campionatino di primavera... Il campionatino di primavera... Che... Bisogna affrontarlo nel modo giusto... Che... Ci riserverà... Ci riserverà... Tutte partite come questa... Partite che... Potranno risolversi con i dettagli... Sui dettagli... Ehm... Ehm... E magari che rimarranno anche aperte fino alla fine... Ma bisogna tenerle... Bisogna tenere... Eh... Bisogna registrare qualcosina ancora... Adesso... Qualche attenuante... Ce l'abbiamo... Perché poi la squadra... Era... Visto un po' stanca... Eh... Sabato... Eh... Abbiamo accusato... Tante... Tante assenze... Però... Però... Sopperite... Molto bene... Sì... Molto bene... Ma che Freddy... Regista... Alla fine... Era... Era... Era visibilmente provato... Però Freddy... Ha detto che c'è... Un'altra volta... Esatto... E... Positivo... Anche il... Tridente... Inedito... Con... Delle... Eh... Delle monache... E della morte... Ai lati... Eh... Forte Pistarino... Eh... E ha fatto un po' di biciclette... Interessanti... Eh... Il signor delle monache... Detto Pistarino... Sì... Sempre... Eh... Con simpatia... E affetto e simpatia... Con grazie ed eleganza... Grazie ed eleganza... Si vede che... Si vede che... Che... Che ha i numeri... Soprattutto... Nel primo movimento lì... Vedi qua... Un po' miccoli... Un po' miccoli... Ah... Qualcuno ha detto un po' Giacomelli... Però... Adesso... Adesso vediamo... Adesso vediamo... Perché è inarrivabile... Il Jack... Capitano... Salutiamo... Ecco... Ho letto qualche dichiarazione... Stima scorsa... Salutiamo... Sempre con affetto... Eh... Bocca al lupo dai... Eh... Sta leggermente... Meglio... Però veramente... Veramente... Sì... Ci si può... Diver... Ci si potrebbe... Si potrebbe... Se... Se... Se poi... Non arrivasse... Beh... Era abbastanza scontato... Il gol... Del compaesano... Zanandrea... No? Sì... Beh... Poteva anche risparmiarselo... Ma comunque... Complimenti... Dai... Vai... Bravo lui... E... Un po' polli noi... Perché... Non... 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 Non mi ricordo bene... Parproia che ha perso la marcatura... Sinceramente non lo so... Eh... Vabbè... Eh... Però... Sì... Vabbè... Vabbè... Persone così... Le traiettorie abbastanza... Leggibile... Mi sembrava... Sì... Un po' teso forse... Però... Vabbè... Non si fa... No... Ciao... Bene signori... Anche per oggi... Abbiamo... Detto tutto... Tra... Frasi... Convenzionali... Vero? E se... Poi... E se... Qua che si fa... Capito? Cioè... Sì... Anche le galline... Potevano essere anche a nostro... A nostra portata... Però... Niente... Perché... E se... E se... E se... E se... E se... Sotto... 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 E vabbè... E come sempre per sempre... Ovunque e dovunque... Forza... Lane!